Un'altra per vincere il suo primo scudetto, l'altra per arrivare a quota 3 e questa è lotta continua, Leocomotive, il plastico, Leocomotive che entra da destra, attenzione, pronto per il tiro, la conclusione appagata, rivediamo l'azione all'altra angolatura, attenzione ancora Leocomotive che entra dentro a sinistra, il tiro e c'è la parata del portiere, di lotta continua, attenzione ancora, la conclusione deviata dal portiere, c'è il calcio d'angolo al minuto 9, il tiro ancora con i guantoni, sempre Leocomotive, in avanti, palo clamoroso in mezzo alle bestemmie, Fabio veramente una grande chance, attenzione, chiude in avanti lotta, continua, il tiro, alto di poco, finisce 0-0. Dubbiamente molti rimpianti, diciamo che sono sceso in campo, volenteroso di portare a casa i tre punti, che mi hanno fatto distrazione, ho detto, è stata male, pensiamo all'anno prossimo, no, mai penso solo a portare a casa il secondo posto, che sarebbe la prima volta che ne ha conquisto questo piazzamento, sì, dà, diciamo che le chance ci sono, impegniamoci. Mister AA, una partita molto combattuta in cui forse avete sentito un po' la tensione dalla posta in palio? Ma sì, forse un pochino, però alla fine, dai, abbiamo raggiunto l'obiettivo, quello di non perdere. È favorito per questo finale di campionato, ci saranno però ancora degli scontri diretti in cui bisogna stare attenti per portare a casa lo scudetto? Ma ci auguriamo di poter festeggiare magari con una settimana di anticipo, con un regalo magari fatto da Leocomotive, chissà. Ultima domanda, perché sta con il giubbotto e il cappello in primavera dentro casa? Marketing, marketing, sto per lanciare una nuova linea.